Ciao a tutti amici e benvenuti in questo video Oggi vi farò vedere una colazione tipo per la mia dieta, che io sto seguendo una dieta chetogenica quindi ci sono tante colazioni, anche salate, che poi vi farò vedere in altri video però questa qua è una ricetta dolce e golosissima Allora per la colazione di oggi ci servono i seguenti ingredienti Allora, latte e kefir proteico, poi yogurt ai mirtilli proteico della Skir poi ci serviranno 10 grammi di semi di chia e un cucchiaino di olio di cocco bio è del cocco grattugiato e se volete potete aggiungere qualche goccia di stevia o di eritrolo come preferite per dolcificare la nostra colazione Ovviamente se volete potete anche aggiungere della frutta fresca come dei mirtilli o dei frutti rossi che viene molto golosa e davvero è un'ottima colazione per darvi la carica Spero che il video vi piaccia e se avete suggerimenti potete lasciare in descrizione qui sotto i vostri commenti oppure potete lasciare anche un like come preferite Ovviamente se volete seguirmi mi farebbe molto piacere potete iscrivermi al mio canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti